Mops nasce dalla mia esperienza diretta del mondo antiriciclaggio in quasi dieci anni presso Banca d'Italia. Ho deciso di lasciare il mio precedente lavoro per cominciare una start up che sia in grado di offrire a banche finanziarie una piattaforma software per prevenire il riciclaggio di denaro. Questa piattaforma è composta da due moduli Brain e Hamlet. Brain serve per identificare transazioni sospette clienti a rischio utilizzando le tecnologie del web semantico. È in grado di integrare milioni di informazioni da fonti interne e le arricchisce con dataset esterni e open source intelligence. Mentre Hamlet rende i dati di adeguata verifica portabili e riutilizzabili all'interno di un ecosistema di intermediari, in tal modo semplificando le procedure di onboarding attraverso l'uso del nascituro e speriamo che arrivi tra pochissimo European Digital Identity Wallet. Abbiamo sicuramente imparato a rivedere, ripensare il nostro approccio al mercato. Ho avuto delle call molto molto utili con alcuni docenti che mi hanno aiutato proprio a interpretare in un modo più semplice, ad andare più rapidamente dai clienti che per una start up è fondamentale. In generale gli incontri con gli specialisti sono stati davvero utili con gli esperti di comunicazione e marketing. Abbiamo costituito veramente una bella relazione, ci hanno proprio accompagnato nel rifacimento del nostro sito che oggi ci piace davvero molto. E poi ultimissima cosa, è stato bello conoscere altre realtà di grande valore, anche in ambiti distanti dal nostro e a mio avviso lavoro continua a confermarsi il fatto che il nostro sia un paese davvero capace di produrre vera innovazione. Forse quello che manca è riuscire a valorizzare la migliore dei modi, ma in questo di fatto sicuramente sta contribuendo in modo decisamente positivo. Pensiamo di essere ben posizionati dal punto di vista tecnologico per essere in grado di portare nuove soluzioni e ambire a essere leader nell'uso dell'identità digitale per quella che è la due dirigence dei clienti. Noi adesso stiamo sviluppando il mercatore italiano con delle partnership importanti e in questo ruolo di CRIF è sicuramente determinante. Abbiamo anche aperto una filiale di Lussemburgo perché vogliamo proiettarci verso l'Europa. Ci consideriamo infatti un'azienda europea che lavora per conquistare mercato comunitario grazie alla propria competenza tecnologica e regolamentare.